Sei nell'anima è un film che racconta una storia liberamente ispirata a una parte della mia vita. Grazie all'interpretazione di Letizia che ha fatto me, ho capito chi sono, chi ero e per quale motivo sono questa di oggi. Questo risultato arriva dopo questo passato, grazie a questo passato. Grazie che hai fatto questo film.